Una vera e propria rivolta delle emittenti televisive locali contro il DPR numero 146 del 2017, già osservato da un'ordinanza emessa dal Tarlazio, ma ugualmente inserito dal Governo nel decreto 1000 proroghe in corso di approvazione dal Parlamento, forse proprio per tentare di bloccare i numerosi ricorsi amministrativi in itinere. Un DPR che modifica, anzi stravolge, i criteri di assegnazione dei contributi, escludendo di fatto le TV private che operano in regioni al di sotto dei 2 milioni di residenti. Peraltro, ai fini della graduatoria, il peso dei dati Auditel in termini assoluti e non in percentuale dei residenti è il doppio rispetto al parametro riferito al numero degli occupati. Una normativa dunque iniqua e irrazionale che mette a rischio il diritto e il pluralismo dell'informazione nelle 10 regioni che non superano i 2 milioni di abitanti, viola il criterio del sostegno all'occupazione del settore e turba il principio della leale concorrenza. Contro tale scempio si sono schierati una trentina dei 60 editori tagliati fuori dai contributi, i quali si sono dati appuntamento a Termoli, alcuni presenti di persona e altri intervenuti in videoconferenza. Tra questi, Tele Sirio, Tele Max, Tele Sardegna, Sardegna 1, GRP Piemonte, Canale 7 Puglia, Tele Foggia, Tele Cagliari, TV6 Abruzzo, TVI, TLT Molise, Tele Regione, Tele Molise e Tele Molise 2. Alla riunione hanno partecipato anche gli avvocati Giuseppe Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza che difendono gli interessi degli editori e di conseguenza dei loro dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro nonché il presidente di Assostamba Molise, Giuseppe Di Pietro. Altri editori hanno già preannunciato la loro adesione. È una questione che interessa chiaramente un segmento ma su ambito nazionale, non è una questione chiaramente locale però c'è la rilevanza delle TV locali perché è una rilevanza che oramai è stata verificata anche sul campo perché è quella che garantisce poi il pluralismo dell'informazione, la pluralità dell'informazione e una garanzia di tenuta del sistema democratico. Ci sarà un profilo di costituzionalità del tutto evidente perché non è ancora chiaro quale sia l'interesse pubblico a trasformare in legge un atto amministrativo quale il DPR. Non è stato chiarito. Quello che abbiamo letto sui giornali però è che sarebbe un tentativo di sterilizzare questi ricorsi giurisdizionali che come è noto hanno già avuto un primo vaglio da parte del Tribunale amministrativo per il Lazio con una ordinanza che è molto chiara relativamente al profilo di fondatezza dei vizi che sono stati censurati. Quindi noi andremo avanti. È chiaro che noi segnaleremo questi fatti alle procure della Repubblica competenti. Dopodiché saranno loro a verificare se effettivamente su questi accadimenti ci siano dei profili penalmente rilevanti. Noi qualche dubbio lo abbiamo sinceramente. Prossimo appuntamento agli inizi di settembre a Roma per una grande manifestazione con i 60 editori al momento esclusi dai finanziamenti e con alcune centinaia di lavoratori, giornalisti e tecnici che stanno rischiando il proprio posto di lavoro per una norma che sostiene l'oligarchia dell'informazione e penalizza il pluralismo e il diritto dei cittadini.